musica musica what the aaaah aaaah musica 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 akuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 siamo tornati in una nuova serie diciamo così perchè perchè sto casino abbasserò sicuramente come avete visto molti di voi mi stanno inviando i giochi sulla posta di ciccio ovviamente io ho promesso che li avrei giocati almeno ci proverò e quindi oggi stiamo provando insieme battleship che mi è stato mandato ripeto alla posta di ciccio grazie mille oggi ci facciamo un gameplay non sarà una serie anche se sembrerebbe fighissimo quindi proviamolo insieme fatemi provare ok perfetto madonna quale casino incredibile oh ho fatto partire in modalità normale vediamo un po' eh che poi tra l'altro io ho visto battleship al cinema e mi è piaciuto da morire mi è piaciuto da morire ma come sappiamo i giochi che prendono spunto da film molto spesso e volentieri fanno davvero cacare l'anima ovviamente questo qua ma così apriamo un patto eh sembrerebbe che ha una grafica di merda così a dirla adesso però l'audio è fatto bene io comunque me ne intendo un po' d'audio e devo dire che non è non è fatto male l'audio no io il filmato non lo salto però potrei anche vediamo un po' perché magari queste qua sono artificiali e cool matis è pure fulita farai meglio a darti una mossa però non l'ho trovato per mettere i sottotitoli giuro e sapete che io li metto i sottotitoli perché mi piace proprio utilizzare i sottotitoli per vedere anche bene quello che dicono salve qua sicuramente ci sarà da aggiustare un pochino tutto ehi capo sarà meglio tornare al lavoro eh ho capito stai calmo arrivo tra l'altro che tu madre a troia ecco che eh lo so ok qualcosa sta bloccando sempre però promette bene sulla carta dovresti essere un tecnico artificiere è però facile mettere e questa è la rima of the pacific exercise e riga pucci a tutti quanti e non fa muovere le bocche eh facile eh si gli dico qua si ok L2 che è questo ah perfetto quando la trasmittente bellica è attiva l'azione entra in pausa e hai il tempo di schierare la flotta si seleziona una nave spostando il cursore sull'icona e conferma si quindi seleziona il nemico da attaccare o la posizione in cui vuoi spostare la nave ok adesso io gli dico guarda guarda vai qui perché disconnessione ok l'ho chiusa e adesso praticamente la nave si dovrebbe muovere giusto uh che figo che figata adesso si entra in azione si sei il miglior artificiere che abbiamo grazie ho bisogno che ti occupi degli ordigni abbandonati nell'area va bene ok perfetto intanto io ho mandato la nave chissà dove coraggio le lancette corrono disinnesca gli esplosivi avanza andiamo 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 però mi fate vedere uh ok dannazione cosa ah pensavo che stava per fare tipo il botto incredibile oh eccomi ci penso io ah vabbè pensavo chissà che dovevo fare ok grazie 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 eh eh devo andare avanti vai andiamocene per di qua x per saltare questo ce l'ho arrivato anch'io senza che me lo dicessi eh un attimo ok i tasti sono tutti quelli normali disinneschiamo questa ho capito usa l'esplosione controllata per distruggere l'esplosivo portatile premo ah sto piazzando il c4 ok ahhh via 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 oh oddio le esplosioni dai per essere sì fine grazie accedi alla trasmittente bellica e porta la cesapiche dall'altra parte dell'isola ci serve laggiù va bene quindi praticamente noi mettiamo questo qua e diciamo chicca guarda tu non devi andare là perfetto e ora la nave si muove che figo però l'intera isola è disseminata di ordigni ancora attivi fai attenzione capo sì va bene tutto è preoccupato che cosa succede succede uuuu ah beh sì me lo ricordo perfettamente ooooooh impulso mp ci sto ci sto ci sto ci sto cosa diavolo sono quelle cose eh sarebbe bello oh ora vediamo le navi che fanno a botte arrivo 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 capirei così ma ha disattivato tutte le bombe tra l'altro grazie eh sto arrivando lentamente ma sto arrivando calcolate che sto correndo arrivo e mi sto anche sta frema tutto eh un attimo non è che ci sto solo io su sta cazzo di isola eh uuuu quell'arma non sa sparare da sola fuoco ma ma una morte incredi ciao uuuu che figlio di mignotta che so bello 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 e ma come si mira ah si mira con questo oh eh la grafica fa un po' cagare l'avevo detto io oh posso prendere qualcosa di incredibile magari posso cambiare idea se se mi date un bel fucile oh che bello lo voglio tutto in faccia aspetta quello sicuramente è qualcosa la musica è parecchio aggressiva eh parecchio aggressiva ma mi piace la tengo così e poi io sono abituato con i grilletti della xbox x360 xbox one indipendentemente oh che arma di merda vai no vieni ok non si capisce bene dove sparo a sto punto posso fare pure così ma i nemici sono un po' rincoglioniti sbaglio sono sbucati dal nulla ci hanno soffraffatto prego ma non ti preoccupare vogliamo ristabilire il contatto con la flotta si ok riprendi il campo base riattiva la griglia non ho letto mai 66% uh ah guarda che figata gli stiamo spaccando il culo cioè nel senso in realtà no ah mi hanno tirato uno schiaffo prendi qualche granata eh dove stanno le granate oh granata l'ho lanciata di merda dalla ah ah mi stanno uccidendo aspetta capolare arrivo eh no così si la vai l'ho lanciata è stata è stata utile allora una cosa che ho scoperto aah 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 ah voglio cambiare arma aah aspetta che ce l'ho surriscaltata aspetta eh voglio questo ok oh oh cazzo aspetta elimino 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 ce l'abbiamo dietro ce l'abbiamo dietro pronto pronto signore ah questa arma qua più spari ahia c'è uno stronzo però siete un po' stronzi io sparo a cazzo eh dicevo ho rifatto qua che eh questa è l'unica arma al mondo che più spari e più il minino diventa dritto oh cioè diventa stabile il minino guardate vedete che diventa precisissimo vieni qua vieni qua vieni qua peccato che oh quanti sono è normale che prima ci sono morto male madonna quanto o sono deboli loro o sta sta cazzo di arma è fortissima aspetta cambio cambio arma metto che poi io amo le armi umane non mi dite niente ma le amo proprio tanto scappo ah ok fammi prendere quell'altro fatemi mettere questa voglio questa non è facile mirare eh comunque purtroppo l'audio eh l'audio è fatto bene ma non quello delle armi aliene sembra che stiamo sparando dei biscotti tre più o meno dai su ma che è è un elicotterino che gira oh è più c'ho più mira senza mira ok stanno muovendo eh mi muovo anch'io qual è il problema alimenta quella griglia di comunicazione si prova a contattare qualche alleato in zona oh questa si che mi piace questa si che mi piace questa si che mi piace le armi non muovetevate di prima dai che tanto non dovrebbe funzionare sta tutto squagliato qua si grazie Dio sei l'unico soldato di terra disponibile ma come e gli altri questi parozzi ma i loro sistemi radar sono andati e non riescono a stabilire pautista ma adesso ho quelli di SmackDown liverwood ok inviamo una nave a supporto va bene ma è figa pure sta cosa del le caselle verdi sono le zone di supporto si muovili le tue navi in modo che la flotta possa fornire fuoco di supporto alle truppe terrestri ok questa la faccia avvicinare sticacchi e vai usciamo va che possiamo mettere solamente una nave madonna quanto mi piace a me sta cosa di mandare le navi e ok si stanno muovendo le navi no 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 fermati ho sbagliato vedi è un po' troppo lento questo eh secondo me è un pochino troppo lento disconezione in corso fin qua ci siamo dai ma chiudi ma che te frega guarda che figo regà guarda che figo regà ok peccato perché sto gioco si è fatto bene come tutti i giochi tra l'altro ma su questi giochi così fighi si era fatto davvero bene era fatto c'era proprio figo e che palle però no venime le truppe nemiche gli faccio lo spawn kill cazzo meno a me madonna quanti siete becca una granata non c'è ok poi me ne ricordavo un po' più forti questi cioè definitivamente più forti oh siamo noi dei soldati veramente fighissimi quest'arma fatta decente decente artiglieria avanti artiglieria qua premio 1 r1 r1 ah ok vedete da dove arrivo lo voglio vedere tutto però lo voglio vedere oh ok andiamo andiamo che figata ma è bellissimo bellissimo è bellissimo è bellissimo sta cosa che puoi usare anche le navi il satellite mostra una struttura aliena sull'altro lato dell'isola si oh cazzo oh cazzo oh cazzo poca puttana lo scagaccio eh oh a peccine afrocio vieni vieni oh è volato via è volato via vieni qua ma non posso dire le botte tipo alla halo sarebbe bellissimo no 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 non me ne ma non me ne fotte proprio perché perché eh basta sta succedendo qualcosa alle nostre navi io devo andare a vedere per forza perché sicuramente avranno bisogno di supporto oh vedete loro due ah porco dè spara pure tu oh vai io ho detto di spara praticamente eh si perché se no ci buttavano giù il cacciatore ragazzi che emozioni incredibili ok andiamocene per di qua eh aspetta quanti siete siete un po' tantini ok ok ci siamo ci siamo ci siamo mi piace mi piace non è male ok mannaggia per l'audio delle armi che non è convincente ah mi stanno tirando degli schiaffetti incredibili ecco qua possiamo già riutilizzare l'artiglieria volendo eh oh qua si sparano tanto guardate che roba uh boom vai vai eh ho capito ho capito oh bella avete affondato la nave grandissimi ok si grazie ora piazza una carica per distruggere il ripetitore e lo so l'ho fatto e vabbè ma quanta roba state avvistando uuuu ha fatto e se ne arrivano giù guarda tutto rosso ma l'ho fatto trasporto trasporto in avvicinamento ancora e di me le truppe nemiche va bene vediamo un po' chiesto il fuoco di supporto eh da quando arriva però uuuu nooo come altra nave nemica in vista come altra nave nemica in vista oh 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 aspetta aspetta macuccio aspetta 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 gli dico guardate eh gli dico a tutte e due le navi di andargli a rompere il culo che poi secondo me dico una cosa secondo me non sarebbe come male come serie eh però ovvio non la facciamo ve lo dico già da subito però niente male ho mandato rinforzi là eh boom eh sto facendo che cazzo ho raccolto attiva la trasmittente bellica per controllare la fanava in uno scontro navale ravvicinato contro il nemico quindi che dovrei fare L2 per attivare la trasmissione bellica ok aspetta no 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 questa mo voglio vederla Carte bonus applica cosa combattimento nave contro nave usa gli armamenti della tua nave per colpire il nemico e ridurre la sua salute prima che scada il tempo ok voglio un missile oh missili guardate boom 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 ma che figata è no io li amo sti giochi uuuuuh spaccato proprio tutto tipo ragazzi io adoro battle station midway cioè io ci facevo le grandi partite carte bonus dove voglio fare altre carte bonus per favore è stato troppo breve ma molto intenso bellissimo è un gioco sottovalutatissimo secondo me grazie ma non fermiamoci siamo solo all'inizio ok queste cose hanno invaso tutte le isole delle Hawaii si ok 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 signori allora io sono fottutamente sincero con voi ma tanto sto gioco graficamente fa un po' cagare anche l'audio non è che sia sta gran cosa ma devo dire che aver integrato la possibilità di utilizzare le navi utilizzarle eccetera eccetera mi integra un tigro davvero tanto quindi andiamo avanti vediamo se mi fanno salvare che secondo me la cosa non è male se mi fanno salvare ok hai guadagnato un trofeo benvenuto sulle isole grazie ti stiamo mandando a Nihoa prima che molti sistemi si bloccassero il veloce e sommergibile USS Laredo compiva le manovre Rimpak lì vicino si il tuo obiettivo è stabilire un contatto con loro ok dobbiamo riformare la flotta l'Oni ritiene che gli alieni stiano costruendo una stazione di disturbo per disabilitare le nostre comunicazioni fa molto fattibile il tuo obiettivo è quello di disattivarla o distruggerla distruggo distruggo procedi da la fino al centro di ricerca Salanoa pare che gli alieni riprogrammino i nostri strumenti per i loro scopi ti darò maggiore informazione una volta giunto sul posto va bene va bene d'accordo un'ultima cosa il satellite indica la presenza di una specie di trasmettitore alieno l'Oni pensa che serva agli alieni per creare delle cupole sull'isola dentro questi scudi a cupola siamo isolati inabilitati a comunicare con l'esterno ok va bene quindi signori per me questo è un gioco veramente sottovalutato fatemi sapere secondo voi che cosa ne pensate è fondamentale che posizioni le navi vicino alla costa per fornire supporto di artiglieria va bene va bene lo faccio basta che non mi rompi le balle ok signori se il video vi è piaciuto pollicione in su commentate e condividete al prossimo appuntamento con i passicci che per 89 eh ma basta fatemi finire che poi me lo gioco tutto sto gioco ok va bene ciao